Vediamo quali maschere si trovano all'interno del calendario dell'Avvento Garnier. Si apre a valigetta ed ecco qua tutte le maschere che troviamo all'interno. Sono 12 giorni. Iniziamo con la prima parte. Giorno 5 abbiamo questa maschera rosa con acido ialuronico e Sakura. Casellina 1. Questa è famosissima, la conosco. Ed è appunto sempre con acido ialuronico e olio di mandorla. Anzi latte alla mandorla. 9. Molto famosa anche questa. Acido ialuronico e cocco. 7. Abbiamo una maschera per contorno occhi che non ho mai provato, quindi sono molto curiosa. Acqua di cocco e acido ialuronico. Numero 3. Sempre no, questo è per una patch occhi che rinfresca appunto sempre acido ialuronico ma con succo d'arancia in pratica. Numero 4. Questa è famosissima con il melograno e acido ialuronico. Questa è una delle ultime uscite pubblicizzate tantissimo. Vitamina C e acido ialuronico. Anche questa è una delle ultime uscite. Camomilla più acido ialuronico. Ok, questa non l'ho mai vista ed è una maschera e un tessuto per la notte. Super idratante. Acido ialuronico. Acqua di mare profonda. Cornflower. Credo sia questo fiore qua. Wow. Non vedo l'ora di provarla. Poi, anche questa non l'ho mai vista. Super idratante e antifatica. Acido ialuronico e lavanda. E per ultimo, una maschera rimpolpante per le labbra. Anche questa non l'ho mai provata, quindi super curiosa. Qual è la maschera che vi incuriosisce di più? Anche questa non l'ho mai vista. Anche questa non l'ho mai vista.